La gara di domani alle ore 18 alla Rechi contro il Genoa è un appuntamento da tempo cerchiato in rosso sul calendario della Salernitana. Reduce da due prestazioni generose e sfortunate contro Juventus e Napoli, la squadra Rinzaghi deve tornare a far punti. Meglio ovviamente tre tutti in una volta perché la classifica ha bisogno di una robusta iniezione di punti e di fiducia. Le due cose vanno di pari passo e se le buone prove delle ultime settimane hanno dato alla squadra quella consapevolezza che serve per affrontare qualsiasi avversario è pur vero che domani sarà una partita diversa perché il Genoa arriverà a Salerno con il dichiarato intento di non lasciarci le penne. Toccherà alla Salernitana molto probabilmente fare la prima mossa tenendo alto il baricentro per provare a scardinare la difesa del Grifone che ha perso il pilastro Dragusin ex mancato del confronto visto il suo recente approdo in Inghilterra. Mancherà anche Boinen ancora in fase di recupero dopo il cambio di casacca in settimana. Inzaghi squalificato e costretto a star lontano dalla panchina dovrebbe recuperare Fazio e ora Zanogli e Basic oltre a Pierozzi. Sembra pronto anche Castanos mentre resteranno ai box Pirola e Dià. Quest'ultimo resta al centro delle valutazioni in ottica a mercato tanto che al più presto il DG Sabatini conta di parlare di persona con lui per fare un punto della situazione e magari mettere un punto definitivo almeno fino a giugno. Sabatini aspetta una risposta da Boateng e si è visto proporre il brasiliano di passaporto italiano Rodrigo Caio difensore del 93 con trascorsi importanti ma anche tanti infortuni alle spalle. Per la gara di domani il recupero di Fazio dovrebbe comportare la conferma della difesa con Ghiombe relovato accanto all'ex Roma. Bradaric spingerà a sinistra mentre a destra Zanogli dovrebbe essere preferito a Pierozzi. In mezzo al campo Maggiore e Legoschi dovrebbero tornare a fare coppia con Basic prima alternativa. L'ex Lazio potrebbe anche agire da trequartista ruolo in cui al momento Ciona e Candreva costituiscono delle certezze. In prima linea toccherà ancora a Simi. La gara col Genoa sarà importante per la classifica e potrebbe dare quella spinta in più anche per il mercato. La Sanitana sa che affronterà un Genoa solido ed arcigno per cui sarà importante restare concentrati per tutta la partita senza farsi prendere dalla voglia di strafare. Dopo tre beffe nei minuti finali Inzaghi spera che stavolta arrivi proprio in coda una gioia da tre punti.